Per me Eden vuol dire salute e la salute ogni giorno dopo aver raggiunto la mia vita. Eden ti toglie il fiato. L'Eden per me è fatica nel divertimento. Che cos'è l'Eden per me? Se non è in mezzo di tempo te lo spiego. Ciao, sono Vincenzo e quando vado all'Eden sono felice. Ormai l'Eden ha un bel ambiente, figo e sucevole. Gente che sorride. Il mio paradiso. Ciao, per me l'Eden è veramente il mio antidepressivo. Io quando entro in Eden stacco la mia testa dai pensieri, dai problemi. Ed è il momento che riesco a pensare solo a me. Mi ricarico di energia positiva e dopo sto bene. Io a fare attività sportiva mi rende serena e quindi forza Eden. Per me l'Eden è un passo per imparare e giocare. Per me sport è famiglia.